benvenuti ad una nuova puntata di radio italia live subito dopo le festività natalizie ripartiamo con il botto questo perché come c'è daniela cappelletti ma con me anzi con noi soprattutto c'è eros ramazzotti ciao manola ti vedo in grande forma sto mettendo dentro la pancia ma vala non è vero non è vero stai peraltro per partire per il tuo tour in america qual è la parte più complicata dopo un tour così lungo la preparazione fisica il distacco da casa quindi un po la nostalgia il distacco da casa vero dai bambini piccoli che cominciano già a capire chi sei cosa fai devo dire che adesso soprattutto quello piccolo comincia a parlarmi a dimmi delle cose e mi emoziono molto e allora lasciarlo per un po mi dispiace ma anche la femmina anche però la mia vita da sempre loro lo sanno quindi sono un po abituati già da piccolini alla tua assenza adesso con la tecnologia ci ci vediamo di là sarà un po un casino perché con sei ore di differenza però è una cosa buona questa cioè è un modo buono di usare la tecnologia vero il 4 gennaio del 2015 ci lasciava pino daniele io so che tu avevi un rapporto incredibile con lui e una stima artistica immensa hai dedicato il tuo ultimo album a pino a distanza appunto di qualche tempo cosa ancora lascia secondo te pino daniele alla musica italiana e lascerà ancora pino era il mio idolo da sempre poi quando l'ho conosciuto siamo diventati amici e cioè uno che mi ha invitato a fare delle cose con lui per cui per me è stata una grande esperienza ma soprattutto una grande esperienza umana di un grande artista come lui naturalmente anche altri grandi artisti ci hanno lasciato tanto e spero che i giovani di oggi ascoltino molto quello che ci hanno lasciato perché quello che sento non è proprio il massimo della vita quasi tutto c'è molto di buono ma anche molto di non buono allora invito tutti i giovani ad ascoltare lucio battisti lucio dalla chino daniele i grandi della musica italiana di andrea c'è un ricordo in particolare tuo legato a pino che appunto ricordi con più affetto lo sanno ormai tutti però l'ho anche scritto nel libro una chitarra che mi regalò nell'88 dopo due ore che ci conoscevamo c'è una chitarra poi anche storica perché lui ci ha fatto un sacco di concerti ed è una Gibson 135 mi sembra una cosa non mi ricordo neanche il numero per l'emozione veramente è stata una grande cosa si sente la voce si si sente benissimo la devo usare per dopo è parsimonioso allora tu sei un po il cupido della musica italiana perché il cupido il cupido perché moltissime storie d'amore sono nate con sottofondo le tue canzoni chi se le dedicate chi per cercare di falco far colpo la dedicata una tua canzone chi semplicemente ci sia sposato facciamo una top 3 delle canzoni più gettonate che hanno fatto sì che hanno fatto nascere storie d'amore beh una storia importante al terzo posto sì ok un'altra te giusto confermate sì più bella cosa al primo ok regina allora che poi è una canzone particolare quella impegnativa da dedicare è impegnativa ma anche altri significati non solo quello io non voglio andare nello specifico sai ho paura direi di sono volare un secondo dei bambini bambini c'è nelloésus non c'è niente da commentato anche o book Come vuoi tu Tutta questa pioggia Sta bruciando la mia anima Danno un altro giorno Io non mi fermerò Questo viaggio Lo faremo insieme Tutto ha un senso Che ci appartiene Vita ce l'è Sai ancora L'amore che Si rinnova Ripartiremo insieme Non c'è una direzione Sola Per noi Sento un sole Ti abito E se tu sarai La mia energia Io non mi fermerò Questo viaggio Questo viaggio Lo faremo insieme Tutto ha un senso E ci appartiene Ci appartiene L'amore che Si rinnova Lo costruiremo insieme Non c'è una direzione Non c'è una direzione Sola Per noi Per noi Di piacere Di piacere Di piacere Di piacere Grazie Grazie Per noi Per noi Per noi Per noi E se ne vediamo Un solitudine Anche stanotte Sentirò Questo mio cuore Imbatte nelle varie Tempo d'amore Che non finisce mai Oh no Tutto al mio dentro Che conosci Che tu sai Vive un momento Più difficile Che mai Non è bastato Non è bastato Aver Tagli altri punti Non è servito Aver pagato I conti Se poi resti Questa mia maniera Ad essere Ancora fragile Fragile Io vorrei sapere Se ci sei O sei soltanto Un volo inuchile Dove sarà Anima mia Senza di te Mi butto via Dove sarà Anima bella Dove sarà Dove sarà Dove sarà Dove sarà Dove sarà Anima bella Anima bella Dove sarà Dove sarà Dove sarà Ti sto cercando Ti sto cercando Dove sarà Trococ Sign per Il Dove sarà Dove sarà Grazie per la visione 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti